...regionali, questo appoggio del Comitato Nord, qual è la sua... Diciamo che Letizia Moratti è la candidata più vicina alla realtà lombarda, alla Lombardia profonda e quindi credo che al di là degli schieramenti sappia raccogliere consenso anche da parte di figure che in passato hanno avuto un percorso nel centrodestra e il fatto che ci siano così tante adesioni del civismo ci fa sperare di poter allargare il confine di queste elezioni dove troppe volte l'astensionismo la fa da padrone. Questa volta io credo che Letizia Moratti per la sua competenza da un lato e dall'altro lato la sua capacità di raccogliere consenso in entrambi gli schieramenti possa fare la differenza e possa rappresentare al meglio l'eccellenza, la capacità di innovare ma anche la solidarietà di questa regione.